Siamo eredi di una tradizione millenaria di forza e di coraggio. Non abbiamo mollato neanche davanti a terremoti, eruzioni, guerre e dalle nostre ceneri siamo sempre rinati più forti. Il popolo di Catania è figlio di un'isola che non si piega alla paura o cede allo sconforto, rimanendo uniti come il rosso del fuoco con l'azzurro del mare anche stavolta risorgeremo e con la santa protezione di Agata torneremo grandi. Tutta insieme Catania gioca ogni giorno la sua partita sul fronte contro un nemico invisibile con i medici e gli infermieri, valorosi soldati che lottano negli ospedali per abbracciare la vita e sconfiggere il male. Ed è per questo che noi siamo qui, per continuare l'antica tradizione della nostra splendida città che aiuta, ama, non lascia indietro nessuno e rende omaggio alle vittime innocenti. Ci siamo oggi e ci saremo anche domani e quando noi non ci saremo più ci saranno i nostri figli e quando non ci saranno i nostri figli ci saranno i nostri nipoti. perché questa millenaria storia di Catania non finirà mai.